Palla dentro ancora da Bertani, Gonzales va giù, c'è calcio di punizione dal limite, se non ho capito male, qui Novara sta chiedendo il calcio di rigore, rosso, rosso, rosso per Cesar, parte Gonzales con il sinistro! Oh, che gol Gonzales! 1-0 Novara, un super gol di Gonzales, 1-0 Novara! Adesso attenzione al destro di Vantaggiato, è una gran botta e il pallone sfiora la traversa. Attenzione al lancio di Italiano per De Paola, il controllo del brasiliano, può esplodere il sinistro, De Paola! Ulcanice! Bertani, a destra Morganella, pallone dentro per lo Svizzero, va Morganella, con il destro Cano con i piedi! E poi Bertani sfiora il gol del 2-0! Francesco Renzetti verso Bovo, vantaggiato, il pallone buono per Cuffa, in area di rigore! Il salvataggio di Uicani, vicinissimo all'1-1 il Padova! Italiano, alza il pallone per lo scatto di De Paola, la sponda per Renzetti! In area di rigore, vince il duello con Morganella, Renzetti ancora, passa Renzetti e poi sbaglia con il sinistro! C'è Rigoni, lo scatto di Motta che incrocia, Rigoni, Rigoni! 2-0! E il suo gol, è la sua partita! E il Novara vola verso la Serie A! Rigoni, grande gol, grande partita! Arriva il fischio finale, il Novara è in Serie A, è il trionfo di Tesser! Una stagione memorabile, 2-0 al Padova, ma veramente una grande, grande stagione! Bentornato Novara, onore al Padova!